Novità da Roma Est, ci hanno fatto uscire dal centro commerciale, come al solito siamo nel nostro amato parcheggio che ormai è diventato la nostra seconda casa quando facciamo i live Ci stiamo un po' organizzando nelle macchine e a breve andremo a mangiare, anzi andremo a comprare i cornetti perché qua c'è chi li vuole e chi non li vuole, io li vuole, io li vuole e io li mangio Nel frattempo fortunatamente ci hanno permesso di tenere le macchine qui al parcheggio esterno del centro commerciale, sia assiali, in modo tale che siamo pronti per rientrare al centro commerciale perché aprirà questa mattina verso le 6, così si dice, non ne siamo ancora sicuri In ogni modo ovviamente vi aggiorneremo e fra un po' inizieremo a giocare a baseball, ciao